Notizia, signori, che fuoriesce così all'improvviso e che ci coglie tutti di sorpresa. Dobbiamo innanzitutto capire cosa sono queste diavolo di dimissioni da parte di chi, ma perché proprio adesso. In pratica il frutto di questo risultato sono delle condizioni impossibili da portare avanti, nel senso che sono delle condizioni contrattuali che non stanno né in cielo né in terra. Quindi questa è proprio la lamentela di colui o colei, perché rimaniamo un attimo nell'ombra, che presenta quindi queste benedette dimissioni, che abbiamo innanzitutto prima cosa detto e poi chi è. Nell'interesse dell'azienda ho comunicato le mie dimissioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Da anni al timone delle RAI, rivendica i suoi successi. Nel primo anno di lavoro del nuovo Consiglio di Amministrazione con il governo Draghi, sottolinea forte se il Sada ha raggiunto grandi risultati per l'azienda. Per citarne solo alcuni, nuovi programmi e palinsesti che hanno portato tra l'altro a un evidente rilancio di RAI 2. La trasformazione organizzativa per generi, un piano immobiliare strategico che si attendeva da decenni, un rilevante potenziamento di RAI Play e dell'offerta digitale. A parlare così è l'amministratore delegato della RAI Carlo Fuortes. Da decenni lavoro nell'amministrazione pubblica e ho sempre agito nell'interesse delle istituzioni che ho guidato, privilegiando il beneficio generale della collettività rispetto a convenienze di parte. La lettera di dimissione è insieme uno sfogo e un atto di accusa. Dall'inizio del 2023 sulla carica da me e ricoperta e sulla mia persona continua l'ad RAI dimissionario si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire la RAI e il servizio pubblico. Allo stesso tempo ho registrato all'interno del Consiglio di Amministrazione della RAI il venir meno dell'atteggiamento costruttivo che lo aveva caratterizzato, indispensabile alla gestione della prima azienda culturale italiana. Ciò minaccia di fatto di paralizzarla. Non posso, pur di arrivare all'approvazione in CDA dei nuovi piani di produzione, accettare il compromesso di condividere cambiamenti sebbene ovviamente legittimi di linea editoriale e una programmazione che non considero nell'interesse della RAI. Ho sempre ritenuto la libertà delle scelte e dell'operato di un amministratore un elemento imprescindibile dell'etica di un'azienda pubblica. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.